Io credo che istituzioni antiche come queste, con le meravigliose collezioni che hanno raccolto, ci aiutano anche a capire che cosa è cambiato in 150 anni nei nostri mari e quindi ad esempio a vedere le specie che sono scomparse e a capire perché. Si è appena conclusa la conferenza degli oceani delle Nazioni Unite e diciamo che il commitment, cioè l'impegno globale verso gli oceani è oramai conclamato. Gli oceani sono essenziali anche per mitigare i cambiamenti climatici che stiamo vivendo in questi giorni, ma dobbiamo fare qualcosa di più per loro. Questa celebrazione è anche un incontro di tutti coloro che hanno vissuto la stazione zoologica, premi Nobel, scienziati da tutto il mondo per capire cosa resta da fare, come farlo e orientare le future generazioni. La stazione zoologica Anton Dorn compie 150 anni, tanti ne sono passati da quando lo scienziato tedesco Anton Dorn, ispirato da Charles Darwin, volle cercare nel Golfo di Napoli le prove scientifiche dell'evoluzionismo e del primo istituto indipendente e internazionale di biologia marina al mondo, nonché il più antico ente di ricerca italiano indipendente. Oggi un convegno ne ha celebrato il lavoro e la presenza nel mondo scientifico, con ambasciatori, ricercatori, docenti, scienziati e studenti, per raccontare la storia di un ente in cui hanno lavorato e studiato 20 premi Nobel e per pianificare la scienza futura su mari e oceani. Questo è un compleanno per la scienza, un compleanno per Napoli, perché Napoli è anche una grande capitale della scienza internazionale. Poi ovviamente questa è legata al mare, perché naturalmente c'è una tradizione straordinaria, ma è veramente un compleanno di tutti, un compleanno della città, un compleanno dei tanti ricercatori, presso la stazione in particolare, ma presso anche tutto insieme alla ricerca napoletana, che hanno lavorato per tutti questi anni per produrre tanta conoscenza, tanta bellezza e anche tanta ricchezza culturale. Mantiene una grandissima competitività scientifica e in questa fase nella quale il tema della protezione del mare, ma anche dell'economia che direva dal mare, è strategica proprio quando si parla di transizione ecologica, il ruolo dell'Anton Dorn diventa determinante. Le politiche di espansione che sta facendo l'investimento in città e anche in area metropolitana rappresentano sicuramente un valore importante anche all'interno di questa politica che come Comune stiamo portando avanti di attrazione, di investimenti nella ricerca, nell'innovazione, in quelli che sono i settori strategici per il futuro. Grazie a tutti.